Con festa dei commercianti, come è andata? Come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo visto la piazza e tutte le vie di Mitrofe, via Roma, Garibaldi, Pretorio, piene di gente, di cittadini, c'è molto movimento, ci sono tanti commercianti con tante iniziative e questo davvero per la città, per l'indotto e per il nome di Magenta nel territorio è molto importante. Grazie all'Unione del Commercio, l'abbiamo organizzata quest'anno ed è un evento che sarà sempre più a crescere, oserei dire, questo è il fermento di oggi e ci lascia sperare veramente molto in una grande partecipazione, una grande crescita anche per il futuro. Una grande mano da tua. Io devo dire un grazie all'amministrazione per quello che ha fatto anche per noi, che ha capito che il commercio è importante sul territorio e diciamo che tutti i nostri ci sono veramente dati da fare, a svilupparsi e la gente è tanta e grazie al sindaco che è qua con me. Quindi diventerò un appuntamento fisso? Certo, un appuntamento fisso è sempre più importante per noi, anche nell'idea di centro diffuso, piazza, ma anche le altre vie, insomma davvero tutta la città che vive non soltanto il centro inteso come piazza, per cui questo sicuramente. Oggi è stato un giorno importante per noi, grazie. Grazie, grazie a voi, buona continuazione. Grazie. Buona continuazione. Grazie, buona continuazione anche a voi.